Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fibili, dove in direzione Mare ci sono un chilometro di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, spostandoci in A1 in direzione Bologna a code a tratti per il traffico intenso tra Firenze-Scandici e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. È chiusa per lavori l'uscita di Firenze-Sud provenendo da Roma. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, per il crollo del ponte sul fiume Magra. Sulla strada regionale 206 Visana Livornese è chiuso per lavori il ponte sulla Fossa Chiara, in località Arnaccio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!